Resta fermo nel mese di settembre il carovita, ma il carrello della spesa, cioè quei prodotti che acquistiamo con maggiore frequenza, dal cibo al carburante, registrano invece un rincaro del 4,7%, superiore all'inflazione ferma al 3,2%, ad incidere soprattutto gli aumenti del carburante e quanto evidenzia l'Istat. E proprio la benzina torna a crescere con un aumento della quotazione del greggio sui mercati internazionali e un'immediata ripercussione anche nel nostro paese, dove il prezzo al litro con accise di ogni tipo è già ai livelli record e non si salvano neanche coloro con le auto a gas, visto l'incremento del prezzo del GPL. E in prospettiva la situazione non appare rosea per le famiglie. Le misure prese 48 ore fa dal governo Monti vedono tra l'altro una riduzione dell'IRPEF sotto i 15 mila euro, ma solo dal prossimo anno, mentre la raffica di aumenti e mancate detrazioni scatteranno già da quest'anno, con effetto reale nel 2013. Dal prossimo luglio ci sarà infatti un aumento di un punto percentuale di IVA su carne, pesce, acqua minerale, energie elettriche ed anche benzina. C'è poi il rischio concreto in un paese dove tutte le merci si spostano su gomma di vedere un incremento dei prezzi anche per quei beni primari, come pane, pasta e latte con l'IVA che resta ferma al 4%. Penalizzate anche milioni di incapienti, quelli che hanno un reddito inferiore al minimo imponibile, dai pensionati e disoccupati senza indennità, che non avranno sgravi fiscali, ma pagheranno più IVA sui prodotti. E poi la questione delle detrazioni fiscali. C'è la possibilità di sottrarre alcune spese, come il mutuo per la casa o l'assicurazione sulla vita dalla dichiarazione dei redditi. Il tetto massimo è stato abbassato da 4.000 euro a 3.000 euro. Una penalizzazione consistente per il forum delle associazioni familiari, che parla di provvedimenti di legge presi dal governo che destabilizzano fortemente le famiglie italiane. E le ACLI sostengono che alla fine il saldo tra dare, avere e negativo per le famiglie ceti più deboli ed anche Union Camer, in uno studio, spiega che i prezzi dei prodotti alimentari avranno un aumento in questo autunno 2012, in crescita soprattutto la carne di suino e di pollo, pere, patate e mele.